Stai andando a fuoco Io... Non sembri preoccupata dal fatto che stai andando a fuoco Non era necessario che mi salvassi Ehi, stavi precipitando da un grattacielo, perciò se non ti avessi presa io ti saresti spiaccicata Devo tornare subito in città Ok Che cosa? Questa è nuova Ero io quello impossibile Come ci sei riuscita? Sono Supergirl E chi saresti? Scusa, è che sono un po' disorientata per colpa dell'urlo Come hai fatto a salvarmi?